ciao a tutti ragazzi io sono sauro urlatore e come avete capito dal titolo oggi faremo un'altra boxing esatto ragazzi faremo un'altra boxing perché insomma vi piace fare questa cosa porco cane e la voglio cioè non riesco a resistere ciao papà sauro urlatore cosa cacchio stai facendo una boxing una boxing di nuovo sì mi piace fare la boxing che problema c'è come te lo posso dire questo canale dedicato ai dinosauri non me ne frega niente voglio fare la boxing fai va bene però urlando come al solito che tu urli sempre mi hai svegliato perché io dovevo dormire perché mi sono addestrato tutta la notte ma uffa ti addestri sempre che palle non ti mai prende un giorno di riposo e sai come sauro urlatore la vita in movimento e per forza la terra gira in continuazione non in quel senso ok a e ho dimenticato di dirti che abbiamo invitato un ospite a fare la boxing cosa e che invitato te lo faccio vedere subito sauro squalo vieni qui ciao a tutti ragazzi oh yeah hai invitato sauro squalo a fare la boxing sì perché mi sembrava una nuova idea e va bene facciamo questa maledetta boxing mi fate andare in crisi voi ok ma questa volta io la busta non l'ho presa io e chi di voi due ha preso la ha preso la busta sono stato io oh yeah uffa e fatemi vedere cosa avete preso ok oggi oh yeah faremo una boxing dei e picchini dominatori dei tropici della sbadam farete una boxing dei dominatori dei tropici sì faremo una boxing dei dominatori dei troieci no in realtà si chiamano tropici troieci tropici troieci troieci e vabbè facciamo la boxing e basta stiamo perdendo soltanto tempo bene ragazzi è il mio onore di aprire la busta oh yeah e va bene sauro squalo apri la busta chissà cosa ci sarà qua dentro oh yeah e dai forza apri bene ho aperto la busta bravissimo bene vediamo cosa c'è dentro ok fatemi vedere ehi ma non c'è nessuna caramella oh yeah cosa ma dentro le bustine del cartolaio non ci sono caramelle ci sono giocattoli e io credevo che c'erano caramelle che palle sì ok capisco ma cosa c'è là dentro sembra un pesce e che razza di pesce è fatemelo tirare fuori ecco fatto ma che cazzo e questo lo chiamate squalo uffa eppure lo squalo è uno dei miei animali preferiti oh yeah c'è ma che razza di faccia ha questo squalo allora deve avere la faccia da scemo già è vero oh yeah c'è noi abbiamo fatto una seconda boxing per far uscire fuori uno squalo con la fascia da scemo già è vero che palle ma secondo me non ha la faccia da scemo c'è guardate che bei occhi che bella bocca i dettagli sono bellissimi oh yeah e comunque uno squalo è uno squalo uffa e va bene bene adesso possiamo finire questa boxing che praticamente io mi sono stufato ok ok bene ragazzi oh yeah la boxing di oggi finisce qui spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale di ghettano il suo canale di rosa oh yeah noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao ciao dai forza sharky saluta pure tu